metà del mondo sta vivendo un'inflazione a doppia cifra come vediamo da questo grafico Italia 11 e 8 circa buona parte dell'Europa oltre il 10 per cento Francia inspiegabilmente al 6 e mezzo e Stati Uniti al 7.7 per cento in fase calante come abbiamo commentato in altri video ma l'inflazione sembra aver raggiunto un picco infatti vediamo forte ribassiste per quanto riguarda l'inflazione un po' dappertutto nel mondo la più marcata nel mondo vediamo ad esempio gli Stati Uniti e la Germania ma questa è anticipatoria per la consumer inflation cioè l'inflazione che vivono i consumatori e come è stata anticipatoria nella fase di aumento dell'inflazione lo sarà e lo è anche nella fase di riduzione dell'inflazione questo è possibile anche perché l'economia sta rallentando poi tutto il mondo lo vediamo dal Global Purchasing Manager Index cioè dall'indice dei direttori acquisti a livello mondiale vediamo che c'è un deterioramento un po' a livello generalizzato sia per quanto riguarda il settore manufatturiero sia per quanto riguarda i servizi c'è un peggioramento meglio un peggioramento relativo rispetto all'esagerato ottimismo del 2021 però per molte nazioni l'abbiamo commentato in altri video siamo sotto il 50 che è la soglia che delinea una fase di espansione economica da una fase di contrazione ma in Europa come siamo messi bene in questo video facciamo un approfondimento proprio sulla situazione europea e sulle recenti parole di Christine Lagarde che ha dichiarato che non sa cosa aspettarsi dell'inflazione chi vivrà vedrà in che senso lo approfondiamo in questo video ne abbiamo parlato spesso su questo canale l'attuale contesto economico finanziario contraddistinto da forte incertezza ciò nonostante noi non smettiamo di investire sia nel mercato immobiliare che nei mercati finanziari e qualche settimana fa abbiamo tenuto un webinar in cui spieghiamo qual è la mentalità che adottiamo per continuare a investire continuare a costruire il nostro patrimonio nonostante l'incertezza che contraddistingue in questo momento abbiamo deciso di metterti a disposizione la replica nel caso tu te lo sia perso quindi qui in basso trovi il link alla replica è totalmente gratuito ma visto che ci sono state molte persone che ci hanno fatto i complimenti per la qualità della presentazione abbiamo deciso di riproporla a tutti gli altri che magari l'hanno persa la replica sarà disponibile per qualche settimana quindi se ti interessa l'argomento iscriviti ora trovi il link per accedere alla presentazione dal titolo a prova di recessione qui in basso ciao come dicevo prima l'italia ha visto un nuovo picco di inflazione novembre 2021 11.8 per cento quindi sembra essere ancora in una fase di scoperta del massimo mentre invece questo massimo sembra averlo visto l'area euro eurozone dopo un dieci e mezzo circa dell'ultima rilevazione che penso sia di ottobre a novembre ha visto un leggero storno dopo aver urlato per mesi che l'inflazione era transitoria anche la bce a partire da giugno di quest'anno ha aumentato i tassi di interesse che adesso sono arrivati al 2 per cento dopo vari aumenti da 75 punti base come questo da 0 5 a 1 e 25 e questo da 1 e 25 a 2 come abbiamo visto in altri video aumenti da 75 punti base cioè 0 virgola 75 per cento di aumento del tasso di interesse è un aumento importante e non ce ne sono tanti a livello storico per quanto riguarda la fed negli ultimi 30 anni ci sono stati solo 5 aumenti da 75 punti base totali ok 4 di questi aumenti sono avvenuti quest'anno quindi che si tratti di bce o di fed aumenti così importanti sono indicativi di una situazione molto complessa a livello economico di un'inflazione fuori controllo e di una corsa ai ripari da parte delle banche centrali questa settimana sto registrando il 12 di dicembre il 15 ci sarà un nuovo meeting per quanto riguarda la bce e tra poco vedremo quali sono le stime del prossimo aumento dei tassi di interesse ma ci arriviamo tra poco in varie occasioni abbiamo commentato come la bce sia in ritardo di 3 4 5 mesi occhi e croce rispetto alle politiche della fed che ha già raggiunto come tasso di interesse il 3 78 per cento e per dicembre ci si aspetta un altro aumento da 50 punti base queste sono le aspettative del mercato ho intenzione però di fare un video di approfondimento su quello che succederà a livello fed quindi se la cosa ti interessa iscriviti al canale clicca mi piace facci capire che questi contenuti ti interessano e faremo un video di approfondimento perché questa settimana c'è anche il meeting della fed e quindi ci saranno aggiornamenti anche da quel punto di vista quindi insomma siamo gli ultimi giorni lavorativi di questo 2022 ma c'è ancora molto da discutere a livello di politiche economiche e monetarie quello che però voglio approfondire in questo video sono le parole di christine lagarde che ha recentemente rilasciato in un'intervista che su questo canale abbiamo deciso di riproporti non sotto formato di articolo perché sono bravi tutti a riportare articoli ma sotto forma di traduzione così ti puoi gustare anche l'espressività di christine lagarde quando dice ciò che ha detto in questo video la città di infilazione è la che ciò che guardiamo la più grande in ottobre ha fatto il più alto in ottobre 10.6% la infilazione principale ha stato molto alto anche circa 5% e io vorrei vedere l'inflazione che ha peccato in ottobre ma sono e io vorrei che non vorrei andare così farlo che ciò che credo che c'è troppo sicuramente in un componente che è il passato di costo di alta energetica all'intervista 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 ha raggiunto il tomatzo all'intervista 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 ovviamente in addirne in più oltre professionalità all'intervista che chiede l'intervista all'intervista 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 di segno soloPro ночlio all'intervista all'intervista altaть comeci chew source di s suggestionaire all'intervista che chiedendo in parenthetta diminuzione attraverte a gucken sui temati in poco e commodities at large o whether it is energy we do not see the components or the direction that would lead me to believe that we have reached peak inflation and that it is going to decline in short order I think that whenever I ask my top notch economist at the ECB and I ask about the risks, the answer that I get for the moment is that risk is to the upside without qualifying the upside so that's how we perceive inflation at the moment and that prompts us to continue to tame inflation with all the tools that we have and as you very well noted the one that is first and foremost efficient in the circumstances is the interest rate come commentate in un altro video non amo particolarmente la figura di Christian Lagarde proprio a pelle ha un'espressività che così un po' sommessa a questi occhi un po' così questa voce tremolante insomma va bene l'abbiamo già detto è un politico si deve occupare di politiche monetari però rimane un politico e quindi come l'abbiamo vista particolarmente decisa e ironica in quell'altro video bene adesso la vediamo mesta mesta che dice boh chissà cosa succederà all'inflazione non mi aspetterei crescesse anche all'interno della bce un po' come succede all'interno della fed di tutte le banche centrali ci sono esponenti detti falchi e colombe i falchi sono coloro che hanno un atteggiamento più aggressivo nei confronti dei tassi di interesse che potremmo definire un po' più interventisti ok invece le colombe sono quegli esponenti che vorrebbero che la banca centrale avesse un ruolo meno attivo e lasciasse un po' più correre il mercato e autoregolarsi potremmo dire insomma meno interventismo attivo e quello che si nota è che c'è appunto una forte contrapposizione opinioni differenti potremmo dire all'interno della bce infatti c'è cap economista e membro del board della bce quindi chi partecipa alle riunioni con cristi lagarde per decidere i tassi di interesse che è possibilista sull'essere arrivati ad un picco dell'inflazione e fa stime di calo dell'inflazione nel 2023 appunto perché dopo un picco ci sarà un calo ciò nonostante il cammino dell'inflazione dagli attuali livelli molto alti fino al 2 per cento richiederà comunque molto tempo e quello era un cauto ottimismo invece poi ci sono altri esponenti come lo slovacco peter kazimir che dice non ci sono ragioni per rallentare il tightening quindi la restrizione monetaria che si ottiene in due modi lo vedremo tra poco aumentando i tassi di interesse e con una vera e propria azione detta quantitative tightening e quindi è molto più falco dice no no andiamo avanti così ho paura che ci vorrà ancora tempo prima di celebrare il picco dell'inflazione i mercati stimano un aumento di 50 punti base per quanto riguarda appunto il meeting e l'incontro che ci sarà questa settimana quindi non un aumento molto aggressivo da 75 punti base ma semplicemente 50 queste stime da parte dei mercati le si estrapolano dal prezzo dei future sui titoli di stato è una cosa molto complessa ti basti capire che analizzando il comportamento dei mercati e il valore che danno i mercati a particolari titoli finanziari si riesce a capire quali sono le aspettative di aumento dei tassi di interesse queste sono le aspettative dei mercati chiaramente è l'idea che i mercati si fanno sulle politiche di una banca centrale ma in alcun modo non sono vincolanti per una banca centrale se vuole aumentare di 75 punti base lo fa qualunque siano le aspettative dei mercati però analizzare le aspettative dei mercati appunto ci permette di farci un'idea un po di come stanno interpretando le parole un po come pollicino lasciava le briciole per ritrovare la strada di casa bene i banchieri lasciano delle briciole degli indizi qua e là per far intuire ai mercati che cosa lo aspetterà al prossimo meeting ma che cosa ci aspetterà dopo questo aumento è verosimilmente sarà di 50 punti base cosa ci aspetta per il primo semestre dell'anno prossimo molto probabilmente altri due aumenti di tasse di interesse prima di vedere all'opera il QT il quantitative tightening che adesso approfondiremo con questo articolo la stima di arrivare a 2.5 di tasso di interesse che è basso se ci pensiamo stiamo commentando in tutti i video relativi alla fed quanto il tasso il terminal rate il tasso di interesse finale a cui dovrebbe arrivare la fed si aggira attorno al 5 per cento quindi è inspiegabile almeno io in questo momento non trovo spiegazioni per questo tasso di interesse finale molto basso cioè molto basso rispetto ad un'inflazione al 10 per cento quindi non è molto chiara la politica della bce in questo momento che comunque verosimilmente aumenterà di 50 punti base i tassi di interesse in un contesto in cui c'è ancora un forte rivario tra l'inflazione e i tassi di interesse 10 per cento di tasso di inflazione due punti che diventeranno due punti e mezzo di tasso di interesse questo è un po' preoccupante dal punto di vista del contenimento dell'inflazione perché abbiamo visto in altri video e se non li hai visti perché non sei iscritto al canale quindi cosa stai aspettando iscriviti al canale così non ti perderai questi futuri aggiornamenti in cui parliamo di dati a come al solito te lo ricordo tutti i grafici tutti gli articoli tutte le slide che ti presento in questo video puoi scaricarle gratuitamente ti spiego come alla fine del video bene quello che abbiamo commentato in altri video è che quando l'inflazione supera il 5 per cento a livello storico per poterla contenere i tassi di interesse sono sempre dovuti salire al di sopra del livello dell'inflazione quindi con un' inflazione al 10 ovviamente quando tu aumenti i tassi di interesse e magari li porti al 3 4 al 5 bene l'inflazione inizia a scendere e per poter tenere l'inflazione sotto controllo a livello storico il tasso di interesse è sempre dovuto andare oltre il livello di inflazione quindi magari tassi di interesse al 6 per cento e inflazione che era scesa da un 10 a un 5 quindi se politiche economiche di del passato ci possono dare in qualche modo un'indicazione di quello che potrebbe succedere in questo ciclo economico mi viene da dire che un 2 mezzo per cento di tasso come terminal rate è un po basso in un contesto in cui l'inflazione continua ad essere il 10 per cento queste sono le informazioni che abbiamo oggi queste sono le stime che possiamo fare sull'andamento futuro dei tassi di interesse vediamo per me rimane un'anomalia non sono in solo a pensarla così infatti da questo articolo di Bloomberg si legge come nonostante il forte aumento dei tassi di interesse che è uno dei più elevati a livello di storia dell'euro la maggior parte degli intervistati ad un sondaggio che è stato fatto ad economisti da parte di Bloomberg ritiene che la banca centrale europea sia ancora molto indietro nel suo tentativo di contenere l'inflazione che è 5 volte il target della BCE che 10 5 volte perché dovrebbe essere il 2 per cento la federal reserve ha già fatto molto di più ed è molto più avanti in questo processo di contenimento dell'inflazione infatti se ti interessa questo argomento facciamo arrivare a questo video 2000 mi piace e faremo un video sulla fed la fed è appunto più avanti e verosimilmente nel meeting di dicembre non dovrebbe aumentare di 75 punti base ma solo di 50 perché perché già tanto è stato fatto siamo già a quasi il 4 per cento di tasso di interesse quindi il doppio rispetto alla BCE l'anno prossimo dovrebbe partire anche il quantitative tightening quindi restrizione monetaria come avviene il QT avviene esattamente al contrario del QE giusto? immagino ti starei chiedendo ma che cos'è QE? Il quantitative easing cioè alleggerimento monetario potremmo chiamarlo così in generale stimolo monetario è quando una banca centrale immette liquidità sul mercato comprando titoli di stato ok quindi compra nel nostro caso BTP buoni del tesoro e quindi comprando questi soldi chi vende questi titoli alla banca centrale riceve dei soldi quindi la banca centrale crea denaro usa questo denaro per comprare titoli di stato a chi li compra alla casalinga di voghera o a un'istituzione finanziaria che glieli vuole vendere quindi l'istituzione finanziaria o la casalinga di voghera dopo il quantitative easing ha dei soldi in mano e li può spendere e teoricamente con il QE c'è associato uno stimolo dell'economia il quantitative tightening cioè è l'azione contraria una restrizione monetaria è la stessa procedura al contrario quindi che cosa fa una banca centrale ha due opzioni in un caso può vendere questi titoli di stato li mette sul mercato quindi se li vende c'è qualcuno che li compra dall'altra parte quindi la casalinga di voghera si compra il titolo di stato si priva di massa monetaria che dalla banca centrale in cambio di un titolo di stato e quindi la banca centrale prende questi soldi della casalinga di voghera è venuta una transazione no no glieli ha rubati no c'è stata una compra vendita prende questi soldi e li tira via dal tavolo quindi sta facendo sparire massa monetaria l'alternativa è lasciare che i titoli vada una scadenza quindi io banca centrale ho in pancia dei titoli di stato del governo italiano quando questi vanno a scadenza cosa faccio niente semplicemente il governo mi dovrà ridare i soldi perché io avevo un titolo di stato quindi mi dovranno ridare il capitale per gli interessi e io questi soldi adesso che li ho in mano io banca centrale li tiro via dal tavolo il problema del quantitative tightening è il conflitto con i governi in un contesto di forte incertezza economica e in un contesto in cui comunque tutte le principali economie stanno cercando di gestire al meglio di uscire da una fase di grandi stimoli che è quella che abbiamo vissuto nel 2020 nel 2021 la bce si trova in un cul de sac e per uscire da un cul de sac come dici in un qualche video fa serve un sac di cul giusto perché il problema è che da un lato appunto c'è questa difficoltà nel riuscire a far sparire soldi dal piatto senza mandare in crisi in governi dall'altra parte e vorremmo contenere l'inflazione giusto e i consumatori stanno segnalando ai policy maker cioè ai politicanti che non hanno fatto abbastanza le aspettative di vari sondaggi fatti ai consumatori stimano che l'inflazione nei prossimi 12 mesi sarà al 5.4 per cento praticamente tre volte quello che è il target della bce e anche economisti che sono stati intervistati da bloomberg riportano come la stima di inflazione per il 2023 sarà del 6.1 per cento contro il 2.2 del 2024 la simultaneità di politiche come il quantitative tightening e l'aumento dei tassi di interesse è un mix molto pericoloso di politiche monetarie in un contesto di economie come quelle dell'area euro molto indebitate che non sono ancora uscite da un'energia che non sono ancora uscite da una crisi energetica quindi un altro scenario possibile è quello che una restrizione monetaria si dimostra eccessiva e porti ad un quick reversal cioè un cambio veloce da un lato probabilmente si dovrebbe aumentare di più i tassi di interesse dall'altra parte come diceva anche Cristian Lagarde siamo all'interno di una crisi energetica che comunque si è un po' attenuata perché se prendiamo il prezzo del gas dai picchi di 9.59 siamo circa a 6.86 comunque nel 2020 eravamo a 2 questa unità di misura è dollari per milioni di MBTU non so esattamente quale sia l'unità di misura del prezzo del gas ma ci basti capire che era più o meno quintuplicato nell'arco di un anno e mezzo anche il prezzo del petrolio ha ritracciato fortemente dai 116 dollari al barile di prezzo di massimo adesso è a 71 quindi più in linea con medie storiche quindi è indiscutibile che ci sia uno scenario molto incerto sia a livello economico sia a livello di crisi energetica da cui forse si vede un qualche spiraglio o quantomeno un ridursi delle problematiche degli ultimi due trimestri allo stesso tempo è difficile fare stime future su che cosa farà la BCE costretta come è a operare in un campo d'azione molto limitato tra l'altro diamo per scontato che l'inflazione all'interno dell'area euro è molto diversa da nazione a nazione quindi come vediamo è un lavoro molto complesso probabilmente più difficile del lavoro che debba fare la Fed perché ci sono nazioni che stanno rispondendo in modo molto diverso all'inflazione anche perché il tema proprio dell'energia è gestito in modo diverso a livello di nazione a nazione quindi per le nazioni che non hanno un'indipendenza energetica come l'Italia l'incidente dei costi dell'energia e quindi l'inflazione che ne deriva è molto più elevata per altre nazioni probabilmente per questa ragione che la Francia ha un'inflazione più bassa sì probabilmente sì perché produce energia e ce la vende anche quindi è meno soggetta a un'inflazione che dipenda da questi fattori ci sono poi fattori economici ma quelli sono parte del problema più o meno l'energia l'abbiamo visto in altri video è responsabile circa di un 40 per cento dell'inflazione che stiamo vivendo in questo momento il problema dell'inflazione lo sappiamo bene è che diluisce il potere d'acquisto del nostro denaro e quindi anche del nostro stipendio e quindi se c'è un'inflazione al 10 per cento e il tuo reddito non cresce del 10 per cento da un anno successivo beh a conti fatti stai perdendo il 10 per cento di potere d'acquisto e questo è un problema sentito da tutti ma quello che trovo particolarmente grottesca è questa notizia all'interno della banca centrale europea è stato discusso un aumento degli stipendi del 4.7 per cento del 4.07 per cento a livello generalizzato tra tutti i funzionari della banca centrale europea e lo staff della banca centrale europea è in rivolta perché ovviamente è insufficiente quando l'inflazione al 10 per cento e minaccia scioperi scioperi perché appunto le persone non sono contente che l'aumento degli stipendi sia al di sotto del tasso di inflazione e con questa notizia abbiamo fatto bingo abbiamo chiuso il cerchio quando i funzionari della bce si lamentano dell'inflazione e che il loro stipendio non è indicizzato a sufficienza l'inflazione cosa puoi volere di più da questo 2022 direi che in questi due anni non ci siamo fatti mancare niente neanche notizie tragicomiche come questa se ti interessa un approfondimento sulle politiche monetarie della fed facciamo arrivare a questo video 2000 mi piace e facci capire che l'argomento ti interessa puoi scaricare qui in alto tutte le fonti link e gli approfondimenti che ho condiviso in questo video e qui in basso se te lo sei perso ti invito a guardare un video recente in cui abbiamo approfondito i rischi di recessione a cui sta andando incontro l'economia per il 2023 se questo video ti ha dato valore iscriviti al canale clicca mi piace ci vediamo in un altro video ciao